Questo è il primo Sumbit Mediterraneo Sanità, organizzato e promosso da Motore Sanità, Feder Sanità Anci e con partecipazioni di illustri esperti da tutta Italia. Perché Mediterraneo? Perché esiste una caratteristica della medicina occidentale vista in termini mediterranei. Non è soltanto la dieta mediterranea, spesso banalizzata in mille maniere, ma anche altri aspetti. Il sistema Sanità Italia, sistema che è stato sinora prevalentemente pubblico, ora che diviene sempre più rapidamente un sistema misto, è un sistema a cui si guarda con attenzione da varie parti del mondo, ma soprattutto dal nostro Mediterraneo e dal vicino Oriente. Abbiamo cercato di mettere assieme competenze in questo ambito, qui a Napoli, perché Napoli in qualche maniera è un centro del Mediterraneo, uno dei tanti centri, ma sicuramente non il minore.